Si è conclusa con un grande successo la mostra di Renoir. Oltre 60.000 visitatori pavesi e non che si sono recati alle scuderie del castello Visconteo in questi tre mesi. Siamo insieme a Pietro Allegretti di Aleph, un successo questa mostra di Renoir? Un successo sì, veramente che non ci aspettavamo perché abbiamo raddoppiato i visitatori di Lothrec. Quindi vuol dire 63.000 persone che sono venute a Pavia. Raccontavo prima appunto un buon 50% e più arrivavano da fuori Pavia. Significa che sono arrivati qui, hanno speso nei bar, nei ristoranti e si sono goduti anche Pavia perché molte delle mail che arrivavano erano anche di apprezzamento della città, magari città che non conoscevano. Quindi è una cosa direi positiva, un record che non ci aspettavamo di fare, così alto. Assessore Gianmarco Centinaio, possiamo dire una rinascita culturale per la città di Pavia per questa mostra di Renoir? Sì, finalmente, era quello che ci aspettavamo all'inizio dell'anno, cioè un 2012 di successi, un 2012 che avrebbe portato nella città di Pavia tantissimi visitatori e tantissimo interesse nei confronti della nostra città. Così è stato, stiamo chiudendo l'anno nel migliore dei modi. Questa mostra di Renoir ha fatto 63.000 visitatori, il record storico per la città di Pavia, raddoppiando rispetto al record precedente, però anche il brand, perché ormai chiamiamolo così, il brand Castello Visconteo, è un brand che ormai è consolidato, è riconosciuto a livello pavese, ma anche regionale. Perché quest'anno chiudiamo con un numero importantissimo, cioè chiuderemo a 126.000 visitatori, che se li paragoniamo ai 100.000 dell'anno scorso e ai circa 60.000 degli anni precedenti, vuol dire che nel giro di qualche anno il Castello Visconteo si è affermato in modo non indifferente. Quindi penso che in un momento di crisi come questo, dove ci sono tantissime città della Lombardia che stanno disinvestendo sulla cultura, quindi meno mostre e meno iniziative culturali, il 2012 vede Pavia che si afferma come una città protagonista, con una propria mission, che è quella di Pavia Città delle Mostre, e con una visione per il 2013 più che positiva. In questo momento che abbiamo chiuso questa mostra stiamo rilanciando, rilanciando, già rilanciando, perché in Castello Visconteo c'è una mostra importante con artisti dell'arte contemporanea, e quindi inizieremo il 2013 già con una mostra di caratura internazionale. Meglio di così non si poteva aspettare. La cosa che mi piace anche evidenziare è che questo non è un successo solo dell'Assessorato alla Cultura, ma è un successo della città di Pavia, quindi tutti i nostri concittadini devono essere orgogliosi.